E quindi lasciate un bel mi piace, bella. Comunque oggi facciamo la sfida dell'incontrario, quindi... Dell'incontrario. Dell'incontrario. Un urino al massimo. Mamma mia. Abbiamo iniziato con l'altro, perché? Perché praticamente oggi il video sarà la sfida delle parole al contrario. Sì. All'incontrario. All'incontrario. Ok? Perché noi che faremo? Noi abbiamo preso un'applicazione che ci dà le parole al contrario, quindi noi cosa andremo a fare? Diremo una parola e la dobbiamo dire al contrario. Hai detto troppe volte contrario. Tutto il contrario. Comunque diremo questa parola e poi sentiremo qua se l'abbiamo detta giusta. Quindi per esempio, ca, vi faccio vedere. Asak. Ora si sentirà anche la sua risata al contrario, però vabbè. Dico che spettacolo. Asak. 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 Comunque era così, era. Ma ho detto Asak, un altro. Vabbè, diciamo che è un po' un trip. È un trip. È un... È un... Un pittre. Un pittre. Un pittre. Un pittre. Un pittre. Pittre. Trip. Questo sarà, eh. Trip. Ma è troppo bello. Vabbè, possiamo iniziare con le parole. Inizia lui. Io gli devo dire la parola e lui le deve dire al contrario. Sì, vabbè. Partiamo con una parola. La parola a poco, dai. Una parola facilissima. Cane. Cane, allora. Uno... 3 secondi, dai. Perché non c'è di... Enac. 1, 2... Aspetta, aspetta. Enac. Oh, ruolo di tamburi. Al contrario. Cane. Cane. Tutti i toscani questi. Cane. Oppure è romano, perché... Cane. È un romano toscano. Comunque, ho una... Come funziona? Devi fare qua e poi qua. Ah, ok. Aspetta. Palla. Allap. Palla. Palla. Mamma, è cattivo pro. Palla. Palla. Ehm... Drogba. Oddio. Vai. Uno, due, tre. Abgrod. Aspetta. Aspetta. Porcba. Porcba. Aspetta, risentiamo la risata di Xenic. Aspetta, perché è bella. Porcba. Pogba, ho detto. No, Drogba. Dunque, è proprio la risata dei film horror. Sentite, sentite. Aspetta, firma. Popo. Porcba. Sai quando ti becca il pagliaccio? Sì. Che fa? Si è sentato a doppia la risata. Mamma mia, vabbè, comunque. Ma da, faccio io una fa, è difficile. Era difficile, troppo. Vai. Simson. Simson. Vai. No. Sì. No. Cazzo, ho sbagliato. Simson. Ah, no, ho detto bene. Ma come cazzo fa? No, ho detto bene. Perché pensavo di essere... Si, però, si. Simson. Simson. Mamma mia, sono fenomeno. Perché ho invertito, ho pensato al contrario dicendo il contrario di quello che pensavo. Sì, vabbè, basta. Inception. Vai. Dillo a te. Super cari fragili. Dai, dai. Inception. Sì, ciao. Vai. Vai, 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 vai. No, il shteyn. Guarda, ho detto il tempo a caso. No, il shteyn. No, il shteyn. Ma voce il tempo a porca... No, 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 no. Oh, no, la marca, possiamo chiamarla così. Sì, nienti, no, no. Sì, sei proprio strozzo. Mo te faccio io una difficile. Vai. Nikon. Nokin. Ma tu sei tipo un... Ehm, Nikon. Ehm, Nikon. Vabbè, dai, io sono stato più clemente, vai. Vai. Vai, vado. Cano, non dai che ce l'ho scritto l'altro. Ce stavo a pensare io. Io per quello mi ho detto Nikon prima. Sono un mentalista. Eh, certo. Grananas. Sì, abbiamo avuto il strozzo. Vai. Dai, è facile. Sananarg. È giusta. È giusta. È giusta. Eh? Grananas. Mamma mia. Come no? Ha 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 ha. Ma tu te, no, perché non è questo? Che Joker dice Grananas? Comunque, ragazzi ci chiamiamo Grananas, no Grananas. Esattamente. Diciamo. E soprattutto non ci chiamiamo Grananas. No. Bella Grananas. Ha 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 ha. Cioè, ho c'ho dei problemi, insomma, avete letto. Hai ridotto il nome. Che chi ne è? Jukebox. Doppia. Jukebox. Eh, ok. Vabbè, tanto di jukebox. A fine. È uge, a fine. Vabbè, basta. Se non ho dato suggerimenti. È facilissimo. Xob uge. Ma che cazzo? È questo che sbaglia, ma io non l'ho detto appena. Ah, perché dividi uge il Xob. Ne sa. Uge il Xob. Ma perché hai indicato dell'Apri? Perché sono alzato in anda. Uge il Xob. Che età? Va bene, va benissimo. Va bene, va bene. Mostra a me. L'ultima. Oh, questa tonrina. Allora, me la godo. No, senza che guardi, senza che guardi, vai. Che, dai. Odo golem. Odo golem. Sì, perché devi pure dire, me la godo. Me la godo. Tutto quanto, mia bella varonina. Ma che cazzo? Me la godo. Il giorno è di sera. Vabbè, ragazzone. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Piaci, piaciuto. Ah no, aspetta. Diciamo tutto il contrario. Facciamolo dire da lui. Sì, vabbè. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Bene ragazzi e benvenuti con questo nuovo video. A parte di scherzi. Lasciate un like, commentate. Consigliateci qualche altra sfida, magari, che vi possa interessare, che vi possa piacere. Seremo pronti a farlo, magari, non cose troppo violente. Dai Granas è tutto. E dal Don Fabio. Ciao. Aoi.